Questo incontro fa seguito a un ulteriore incontro avvenuto il 16 settembre col ministro Cartabia in cui abbiamo rappresentato, io come Abruzzo, le varie esigenze che abbiamo in questa regione. In questa giornata di incontro è un incontro vero e proprio perché parleranno all'inizio dei lavori le esperienze di due ristretti che hanno fatto un percorso di semplare e stanno riscattando dei piccoli errori che hanno fatto in gioventù e ce lo racconteranno. Noi abbiamo cercato di coinvolgere più attori possibili della vita civile che sono intervenuti. Tant'è vero che il convegno è riconosciuto dall'ordine dei avvocati, coloro che poi in prima linea stanno a difendere i propri assistiti, dai magistrati, i professori universitari che li ringrazio per la loro partecipazione, altri colleghi garanti che sono adoperati, hanno accolto il nostro invito, e il presidente del garante del Lazio, il professor Stefano Anastasia e il collega della campagna, il professor Ciambriello. Noi siamo proprio qui a combattere, a difendere i diritti, i diritti dei detenuti.